Pronti? Azione! Divertiamoci insieme! Grazie, Bernie! Abbonati a Telebimbi! Ciao, Bimbi! Ci sono tutti i nostri amici che ci aspettano! Attento! È qui! Hai perso di nuovo, Gilbert! Bimbi, l'unico canale tv italiano in Canada per bambini e ragazzi. Per maggiori informazioni, chiama la tua compagnia a cavo o satellitare. Telebimbi! Pronti? Azione! Divertiamoci insieme! Grazie, Bernie! Abbonati a Telebimbi! Ciao, Bimbi! Ci sono tutti i nostri amici che ci aspettano! Attento! È qui! Hai perso di nuovo, Gilbert! Ciao! Abbonati a Telebimbi! L'unico canale tv italiano in Canada per bambini e ragazzi. Per maggiori informazioni, chiama la tua compagnia a cavo o satellitare. Telebimbi! Perché solo insieme a lui...